I due amici stanno dentro in casino, arrivano al tavolo dalla roulette, si guardano, che famo? Giochiamo? Giochiamo. Dai, gli puntiamo. Quante volte scopi a settimana te? Io cinque. Te? Io quattro. Cinque, quattro, nove. Tutto su nove. Vento, non ci si parla dalla roulette. La pallina si ferma su zero. Se guardano, ecco, se non diceva me che è stata, abbiamo vinto.